Buon pomeriggio, benvenuti, tutto bene, bentornati, tre magnifiche donne che mettono un'allegria è solo a guardarle, dicevo, Minni Minoprio, è tornata, Laura Barriales con un piede sull'automobile da Napoli, stasera inizia la tua trasmissione, buon pomeriggio, Italia Costuco, si è stasera, importantissimo, prima serata, in bocca al lupo tesoro, in bocca al lupo, Silvana, Silvana Giacobini è tornata con noi, e qui ci vorrebbe un bel coro, anzi auguri a te, Carlo Nessi, auguri, oggi è il compleanno, grazie, sono entrato nell'età dei diversamente giovani, come avevamo detto, e una cifra col 7, poi se c'è una domanda di riserva, una cifra, non è la prima, e la seconda cifra è un 7, 47, facciamo che sia, sì, bene, 47, a me andrebbe benissimo, se invece davvero parliamo della grande forma di Carlo, di Bud Spencer, sì, Bud Spencer è stato il primo nuotatore italiano che è sceso sotto il minuto nei 100 metri, 59,5 nel 1950, e ha fatto due Olimpiadi, e quello che ammiro tantissimo di lui, che io l'ho sempre definito un benestante talentuoso e annoiato, che ha scelto invece che di lavorare, o di divertirsi, di lavorare divertendosi, inventandosi sei mestieri diversi, perché ha fatto l'attore, sceneggiatore, produttore, cantante, paroliere, all'ora 7, scrittore, e poi è stato un grande sportivo, quindi poteva... E ci ha fatto tanto divertire, vogliamo dire che con i suoi figli insieme a Terence Hill ci ha fatto passare davvero delle ore, i nostri figli, insomma, veramente, e noi stessi... Sempre con pugni a fin di bene, sempre però positivo, sempre divertente, veramente... Aveva questo colpo... Tu l'hai conosciuto? Colpo in grano, 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 che era proprio famosissimo, sì, io l'ho conosciuto perché ho fatto in gioventù, fece anche un'audizione per una particina, un film, mi bocciarono subito, e invece poi l'ho riconosciuto quando è venuto al mio locale, tempo fa, a cenare, a sentire... Ah che bello, sentire musica, dove verremo anche noi molto presto, eh, Minnie, molto presto. Eh, vorrei, eh, Carlo, tu hai portato una foto della tua mamma? Beh, l'ho portata su Gentile Richiesta Tua. E' certo, è certo, ma me l'hai portata, allora. Sì, beh, l'ho portata, allora, tua mamma era? Nel 1949 è stata seconda a Miss Torino e aveva preso la fascia di Miss Sorriso. Se non c'è la foto con la fascia, purtroppo, è perché queste fotografie furono distrutte dal mio zio, dal fratello, perché lei fu eletta nel luglio 1949. Mio zio era un grandissimo tifoso del Torino, due mesi prima, il 4 maggio, ci fu la tragedia di Superga. Com'era, certo. Lui andò in uno stato confusionale, pazzesco, si arrabbiò col mondo intero e una delle cose che fece fu prendere le fotografie e strapparle. Penso. Eh. E' successo questo. E la mamma come ci rimase? No, beh, la mamma capiva, lo vedeva talmente adorato. Mi sorriso, ma in questa foto vediamo invece la tua mamma molto seria. Sì, 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 infatti non c'è la foto che avrei voluto portare, che è quella con la fascia. Comunque è una bellissima donna e tu vivi con la tua mamma. Ma questo per ritornare un po' a quello che era il discorso che facevamo adesso, pochi istanti fa, proprio sulla famiglia che è molto vicina. Adesso tua mamma sarà giovanissima, perché tu fai 47 anni oggi, adesso non voglio fare un conto, sei poco più di un ragazzo. Da quanti anni vivi con la tua mamma? Dal 1999, da quando mi sono separato, sì. Non litigate mai con la mamma? Non litigate mai? Non c'è mai motivo di discussione? No, 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 no. Ad esempio quale? Beh, lei all'inizio era molto, molto perplessa sul fatto che io non parlassi più di calcio in televisione. E mi ha messo molto in difficoltà, davvero. Nel senso che... Adesso invece è molto contenta, anche perché ha una idolatria per voi due, per cui... La salutiamo, naturalmente. Però lei dice, ma che vita stai facendo, hai cambiato tutto. Sai, poi a quell'età è più difficile accettare i cambiamenti, no? E quindi quando tornavo magari da Roma in treno, avendo fatto il viaggio nella stessa giornata, mi diceva, ah ma meglio che non vai più perché ti stanchi. E dico, mamma, io sto benissimo. A me va benissimo. Vabbè, a previsione della mamma. Lei si è dispiaciuta molto che tu non parli più di... Era frastornata. Tutta la vita, da quando ero bambino, da quando sono nato, mi ha sentito, mi chiudevo in bagno per fare le radiocroniche, mi sentiva di notte... È anche difficile da spiegare, no? È difficile, è difficile da spiegare. È molto difficile da spiegare, perché poi magari non ci vedono. Sì, è difficile spiegare che l'informazione ormai ha un po' superato i confini dell'informazione ed è diventata anche spettacolo. Questo è difficile da spiegare. Forse questo è, io ne sono convinto, il periodo più difficile nella storia dell'umanità nei rapporti fra uomo e donna. Perché la donna è stata per secoli sottomessa, ingiustamente, e l'uomo ci ha capito veramente poco dell'emancipazione della donna. Ci ha capito veramente poco. Io credo che per fortuna... Ma anche la donna deve capire di essere emancipata. Scusa Silvana. Sì, scusa. Io credo che ultimamente però è giusto parlarne molto. Negli anni passati non se ne parlava. O perlomeno se ne parlava pochissimo. Invece adesso se ne parla. Ed è giusto parlarne. Ed è giusto parlarne. Ho visto un'intervista dell'avvocato Buongiorno dove diceva le denunce sono naturalmente aumentate, proprio grazie ai media. Però quante donne, tantissime donne ancora, hanno molta paura per cui tante violenze non vengono alla luce del sole. Silvana, erano tutti innamorati. I mini minoprio. Gli italiani quando arrivò mini, io me lo ricordo, erano tutti davvero innamorati. Molto simpaticissimo e molto bello che ha. Però ironica. E poi molto bella, ma ironica. Anche che affascinava. E poi aveva quella sigla. Non è facile essere orico e sensuale. Quella sigla famosissima con Fred Bongusto in cui cantava CPCPC, qualcosa del genere. Ho fatto sei o sette sigle televisive, ma solo quello rimane. Comunque, va bene. Carlo, tu la ricordi. Torniamo a parlare dei Pooh. Andiamo a sentire l'uomo, l'unico uomo presente. È la prima cosa che le ho detto prima, che sicuramente, certo che lo ricordo, anche se lei giustamente dice io voglio essere ricordata anche per altre cose che sto facendo adesso, che ho fatto dopo, al di là dell'aspetto sexy, che era quello che aveva colpito tutti, onestamente. Però era sexy ma ironica. Ma era messa. Era molto divertente. Eri molto divertente. Trovare allora la ragazza... Infatti eri molto amata anche dalle donne. Sì, sì. Questo è importantissimo. La donna molto bella, autoironica. Ok, c'era già Sandra Milo, però erano in pochissime. Era difficile che una donna molto bella fosse anche autoironica. E invece lei era simpatica. Molto simpatica. E forse... Non lo so, non mi sentivo questo splendore. Cioè, voglio dire... Sei stata molto forteggiata. Sì. Abbastanza. Ad esempio... Ad esempio... Tra quelli famosi... Tra quelli famosi... Non posso fare i nomi. Solo cognomi. Solo cognomi. È un peccato. Sì. Puoi fare i nomi di quelli... Qualche direttore di giornale, qualche presidente di squadra di calcio. Tutto lei. Devo dire che se tutti i maschi fossero così, io diventerei bene sicuramente. Non fare complimenti. Oggi Gianni Milano era a Napoli, non è potuto venire, però non mi sono stata la sua. Ma la portavo per questo. Gianni, mi dispiace, conoscevi anche la futura suocera. Chiedo scusa, chiedo scusa. Per cui, Carlo Nessi, non t'allargare. Mi ha scappato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Gibernau, va bene? Ma perché vuoi dare questo dolore al povero Gianni che sta guardando? Ha detto... Non piace, non degusta. No, non vuole parlare. De gusta, sì. Diplomatica. Diplomatica, va bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti e gli ospiti.